ragazzi buongiorno e ben ritrovate benvenute come state un che calore che calore fa caldo ancora caldo e oggi sono truccata ma capelli tutti raccolti perché si sta schiantando allora ho deciso di farvi perché ormai siamo quasi a metà agosto tra un po e fra agosto e io non vi ho fatto ancora vedere i miei preferiti dell'estate anche se l'estate non è ancora finito vorrei farvi vedere che prodotti con quale prodotti defilo io c'è nel senso vado d'accordo in questo periodo anche in quello che riguarda il trucco perché se andiamo un pochino a guardare la maggior parte dei content creator in quello che riguarda make up la maggior parte hanno preso una piccola pausa oppure fanno vedere i trucchi ma davanti alla telecamera perché vi dico io e sfido chiunque che più di un paio di orette con il trucco non ci puoi stare in giro perché guardate io sono uscita stamattina che era ancora un po di fresco però mi sto sciogliendo pur avere l'aria condizionata e siamo alle 11 e mezza se dovrei andare ancora in giro questo trucco che ho addosso regge fino alle tre più o meno di più no però alle tre sono quasi sciolta nel senso che grondo va bene io a stamattina mi sono truccata perché sono uscita e testo ancora dei prodotti per vedere la loro resa vi devo dire che mi trucco pochissimo nel senso che se fa troppo troppo caldo non esco quasi nemmeno perché io sono uscita esattamente due ore e mezza oggi e poi basta nel pomeriggio no se devo uscire pomeriggio esco con la macchina e quindi quando se con la macchina è un altro paio di maniche perché stai con l'aria condizionata magari va in un centro commercial dove c'è fresco e così via andiamo a vedere in quello che riguarda la protezione solare e quali prodotti per il make up utilizzo io da quando è cominciato questo caldo cioè il caldo affoso diciamo che una parte sono cominciati già da maggio perché il caldo è da maggio caldo da me l'umido e io con l'umido non mi posso truccare quei prodotti che magari mi cadono giù perché sudo a genova è così c'è sempre un clima umido specialmente quest'anno è cominciato da maggio anche da aprile c'era umido che pioveva sempre e non ti potevi truccare chissà chi vediamo un po perché quest'anno ho un pochino accantonato cioè praticamente proprio quasi zero usato le palette occhi però partiamo dal principio dalla protezione solare siccome già dall'anno scorso sono usciti dei prodotti fatte appositamente per diverse tipologie di problematiche di pelle nel senso che macchie di scromie che ne so io gente che ha la pelle sensibile si arrossisce fa la cooperosi in contatto col sole cose del genere le case cosmetiche hanno che producono anche i solari hanno fatto uscire un po di prodotti fatte apposta oltre che i prodotti degli altri brand io come fattore di protezione solare 50 più un prodotto che costa anche poco è stato sempre re vox da quando l'hanno portato nel negozio di eme fino alla utilizzavo altri altre protezione solare invece quest'anno mi sono sbizzarita un po ho comperato specialmente adesso in questo periodo questo uso perché il sole è fortissimo questo combo uso della l'oreal il siero viso con niacinamide che un siero antimacchie insieme al suo latte protezione solare è una protezione molto alta questo in teoria dovrebbe promettere che non fa lucidare la pelle però è una cavolata perché sulla mia che è una pelle mista grassa niente c'è lucido lo stesso però non me ne importa perché almeno anche se ho ancora qualche discromia cerco di non ritrovarmi a fine estate con delle macchie o con le discromie che ho ancora più allargate o che mi esce qualche duna in più questo qua io la mattina come li uso la mattina come ho fatto anche stamattina mi lavo col mio detergente viso dopo di che vado solo con lui a volte passo magari un po di tonico ma a volte no e vado direttamente col siero dopo che siero si asciuga in base a che ora devo uscire vado di lui lascio che asciughi e poi proseguo col trucco questo adesso che fa troppo caldo vabbè quando lo finirò stranamente ne ho comprati ne ho ancora mi pare uno però vi devo dire dal mio punto di vista il siero lo comprerò in futuro perché mi piace ed è un buon siero ma la cremina no perché non mi piace cioè nel senso io mi aspettavo anche della tutta la pubblicità che stanno facendo e quello che scrivono anche sul sito di l'oreal che questo prodotto non va a lucidare la pelle è inutile perché anche se tu mi metti ho provato mettere una piccola quantità e sappiamo che non va messa una piccola quantità di prodotto solare va messa proprio il giusto è lo stesso mi si lucida lo stesso dopo due ore già specialmente zona ti viene un macello e con la quantità giusta peggio quindi in futuro lui no su di me non funziona non ha senso di andare a spendere quasi 18 euro di prodotto perché costa non è che però vado bene d'accordo con questo qua e poi ho visto che questo è proprio indicato per pelle miste grasse con questo qui di beauty of johnson costa un po di più dell'altro però questo qua ragazze il top del top quindi questo si lo ricomprerò mi piace molto ora mi chiederete ma perché non vai di questo perché perché io volevo provare lui visto che è fatta appositamente per le macchie ecco quello ma questo va benissimo questo l'ho utilizzato vedete che a metà lo sto utilizzando dal dalla primavera poi come un pizzico di colore se vuole avere un volto un po colorato perché io d'estate non utilizzo fondotinta nemmeno bb cream b cream l'ho utilizzata fino all'inizio di maggio e poi basta stop ho trovato questa emulsione c'era la mente sembra una specie di vita incolorata lei in teoria e bianca ma poi quando andate a emulsionare al suo viso prende il colore del vostro viso della ven pensando che anche d'essa potrebbe essere che non fa lucidare mani anche lei stessa cosa però è buona mi piace la finirò se la devo ricomprare no io quest'anno ho detto testo e vedo quale mi vanno bene la finisco e poi niente perché anche che non costa poco invece un altro prodotto che mi piace molto assai è questo qua questo qua francamente mezza giornata e quando dico mezza giornata parliamo di 7 8 ore buone ma proprio buone anche se potrei andare in contraddizione perché dopo 3 4 ore il la protezione solare va rimessa va di nuovo sparpagliata però questa crema colorata con protezione solare di la roche posse della gamma antelios fatta appositamente per tele mista grassa mi tiene sotto controllo la lucidità questa è una cosa pazzesca cioè praticamente con questo non mi si lucida vi devo dire che se sugli altri ci metto anche la cipria su questo non aggiungo nemmeno la cipria già praticamente non fisso nulla funziona benissimo si trova in due tonalità chiara chiara media e media scura io quella chiara media e dove la trovate nei negozi dove vendono questo genere online oppure la trovate anche nelle farmacie poi questo è tutto quello che riguarda la protezione solare di correttori in questo periodo ho utilizzato solo questi qua c'è praticamente io sono andata solo di questi due di essence perché sono la formula dico 2 per colorazione un po più chiaro un po più scuro e la formula waterproof si lo so è un prodotto low cost però vi devo dire che funzionano mi entra nelle pieghe ce l'ho indosso anche oggi anche se io ho le occhiaie o le occhiaie perché mi si avvicina a quel periodo brutto e poi ho anche il problema di per colpa dell'aria condizionata e queste notti dormo un po maluccio perché ho un po di infiammazione all'orecchio e quindi riposo un po male ecco per cui queste occhiaie però vi devo dire che vanno benissimo non si spostano e poi ragazzi loro cioè io ho tre colorazioni ho questa color rosacea che lo metto nella sottopereoculare la multitasking di maybelline la cancella età per la pelle ag pelle matura è l'unico corettore che funziona io lo utilizzo anche sul viso per farmi la base non si sposta anche se lui non è una formula waterproof l'unica cosa che non mi mi incanta molto questo applicatore che va pulito sembra perché sembra che faccia una specie di muffetta vabbè poi altre cose no perché anche se io ho mille o mille come dirvi mille miglia di correttore in casa no solo loro andiamo a sopracciglia sopracciglia vado solo di due cose stavolta oggi ho utilizzato lui perché è da quando è uscito su mercato solo lui utilizzo quando devo stare di più cosa è il build brow di maybelline costa 16 euro porca miseria una fucilata però dura dura parecchio ho la variante la più scura ne ho comprato per prova anche questa variante è un po più chiara però vi devo dire che non scrive non so come mai è stato aperto non lo so e poi sono arrivata alla conclusione che l'unico che mi fa sistemare le sopracciglia è lui nel senso che me le colora bene qui ce l'ha anche il gel va bene un po sporco e poi vado di questo combo matita catrice quando la trovo perché questa qua quando il clima è bello asciutto non c'è troppo umido d'inverno primavera fino a quando è arrivato sto caldo affoso io sono nata di questa matita di catrice 24 ore variante così slim c'è sperate se vabbè non riesce ecco la mia con girare una micro micro mina solo che la cosa strana è anche water proof non la trovo sempre specialmente questa colorazione un po più scura e poi dopo che ho disegnato le sopracciglia con quella matita li passo un po di questo gel di essence anche se sembra una cavolata ma io che ho le sopracciglia cortissime me le tiene bene in ordine come mascara prima di arrivare al mascara vi devo dire che devo utilizzare il primer per le ciglia vado di due tipi il secondo l'ho scoperto questo prima questo l'ho scoperto l'ho comprato per provarlo va ma vado spesso di questo qua di essenz volume booster lash primer che costa una sciocchezza però a me le ciglia me le tiene ora mi direte ma perché devi utilizzare il primer lo utilizzo perché le ciglia corte e vanno messe in ordine altrimenti non si vede il mascara ecco l'unica pecca con questo qua è che essendo bianco rimane bianco e dovete stare attenti quando mettete il mascara e poi questo qua che mi è piaciuto molto sky high ma costa cinque volte più dell'altro però lo volevo provare veramente questo qua è buono parliamo di maybelline e anche un costo poi di mascara vado solo di tre tipi di mascara perché tre tipi tre mascara che ho aperti no di più però io da quando è cominciata la primavera dal periodo di quando mi lacrimavano gli occhi avevo le allergie e dovevo utilizzare solo i prodotti waterproof sono sono andata da dieme sapendo che hanno il brand bella allergenic su un ipo allergenic e ho preso questo qua in variante c'è scritto vegan ma è waterproof dalla tra lo scovolino così ok questo qui che fa c'è prima passo questo e poi male le combino poi vado con questo qua sempre di belli poi allergenic ma è un po più per il volume e poi questo qui di essens che mi piace un voto della linea like boss questo qua fatto così con scovolino solo loro tre io di mascara ne ho tantissimi aperti tanti vabbè quante ne ho normali ma non 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 riescono a stare già questo qua in variante waterproof certe volte me lo trovo di qua cioè perché si suda ragazzi si si suda si non si può c'è l'umidità anche il waterproof a volte fatica restare lì già d'estate credo che quando c'è questo questa fa così e questo soffo questo umido non andrebbe messo nemmeno un filo di trucco perché ecco questi qua poi al capitolo diciamo bronzer vado solo di questi qua in variante diciamo cremosa perché perché non ho più utilizzato l'unica l'unico con quale vado per fissare un po il bronzer è questo qua di benefit hula che mi estino a finirlo a fine estate a già al buco e poi dopo basta non l'acquisto più perché ormai sono 20 anni che uso lui mi piace tantissimo presso la mia pelle di questo colore va benissimo ma io ho cominciato a utilizzare questo di kiko numero 200 sono questi stick fa di così e poi sono andata a provare anche di altri questo qua praticamente un cover stick contouring il numero 3 di al verde per la mia pelle funziona mi piace molto questa formula poi ho provato questo qua che non è male indosso anche oggi di trend ita questo qui è con la spugnetta e poi ultima scopertona che mi piace moltissimo e ultra bronze contour stick di bel ipo allergenic fatto così questi sono gli unici prodotti per il contouring che li alterno e praticamente vado di loro come blush poi ho soltanto tre prodotti o questi qua due sempre in crema non uso più i prodotti ciao praticamente ho usato poco questi qua in polvere perché su di me restano se vado a fissare poi con la cipria e poi arriviamo anche alla cipria vi farò vedere che mi resiste vedete un pochino mi si lucida però vado con questi due di catrice che questo rossiccio così e questo praticamente mattoncino e poi questo qua di shiglam della collezione frida callow in questa variante rossa si avete capito bene se non lo sapevate quest'anno vanno sono in trend capitolo illuminanti no perché non uso illuminanti e ciprie per fissare solo due raga e mi direte perché perché solo queste qua le sto utilizzando perché mi trovo benissimo con loro e sono le uniche ciprie che riescono a tenermi a bada lucido parliamo del stay matt di rimel in variante waterproof e banana powder di essence in variante polvere libera questa è un po difficile da trovare io l'ho trovata da ovviese canon stand essenz ma nello stand dm non l'ho praticamente non l'ho trovata è un po difficile poi come provati per gli occhi nel senso come trucco quest'anno sono praticamente quest'estate mi sono ricreata una tipologia di trucco e quello che ho visto che l'ha fatta pure la nabla nabla ha creato quei mattitoni ombretto cupid cupidaro che dalla linea cupidaro che praticamente ho visto che colui che crea questa linea mister daniel ha fatto un buon lavoro quest'anno ha fatto delle colorazioni anche più chiare estive tipo il celestino quei colori lì che è una innovazione da lui ho rubato l'idea nel senso rubata in una parola tra parentesi tra virgolette perché io si questi ombretti così in mattitoni da chicco utilizzavo qualche d'uno ma poi dopo oppure dalla nix il famoso ad esempio milk che ne ha anche altri colori nix fatti così ma poi quest'anno ragazzi vi devo dire che sono andata a farmi una collezione cioè e ora vi faccio vedere che brand ho preso allora ciò parecchie colorazioni della layla questi fatti così sono ombretti primer una cosa da urlo tutti qualche colore da chicco vedete chicco praticamente ne ha un'infinità di questa linea qua di colori mi riferisco poi ho trovato questi qua di maybelline della linea tattoo 24 ore ho preso qualche colore anche di qua poi 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 aspettate della debora milano 24 ore fatte in questa maniera anche qui ho un sacco di colori tutti sono così fatti a stick poi c'è stato la linea di rimellando la wanderlust tra l'altro oggi o due colori o questi qua oggi sugli occhi di rimel questo più scuretto su tutta la palpebra di sotto però di sotto messo anche una matita color viola che ve la farò poi vedere e qua nell'angolo o questo più chiaro poi ho trovato anche addirittura dalla trend it up e quindi in teoria mi sono fatta una bella collezione di matitoni ombrati che io solo di loro vado in questo periodo sono colori che si porta portabilissimi e perché ho scelto questa variante di trucco sempre per il discorso del sudore dell'umido dove le polveri dell'ombretto patiscono si spostano vanno sempre ritoccate si devono sfumare e così via qua si fa veloce si può andare anche al mare se siete quelle che vi piace essere truccate al mare io non mi trucco quando vado al mare ma ho a un beach party perché praticamente a beach party a volte sai vai anche in piscina oppure che ne so si suda e questi questo genere di trucco fatto con questi prodotti durano tantissimo perché sono in variante waterproof sempre in variante waterproof ho acquistato anche matite matite classiche classiche nel senso non matitoni matite da creare da creare l'eyeliner o andare a intensificare la rima inferiore ad esempio ho trovato questa collezione di maybelline lasting drama vi faccio vedere sono questi automatici poi perché io quest'anno mi sono anche rifatta un po la linea delle matite perché ne ho buttate parecchie questa linea tattoo liner anche in variante così di matite matite tipo tipo in gel che si sfumano anche e sono durano esempio oggi indosso questo colore nella rima inferiore questo viola così poi qualcosa del genere ce l'hanno anche lavon che avevo una volta ad esempio ho trovato questi qua belli colorati di color seven days b color questi li ho visti sia da cadiz io li ho acquistati da dm fate così sempre ma guardate che bei colori questo è un verde menta poi comunque varie tipologie e questi qua sono i miei le mie matite e ne ho un bel po anche di che mi aiutano moltissimo ho una variante low cost che sono di varie colorazioni e funziona e mi piace tanto sono queste qua di essence long lasting io ad esempio questo prunia mi piace da morire io le uso anche d'inverno queste e poi quest'anno ho aggiunto anche un po di diciamo di eyeliner colorati di questi qua question dalla catrice o avevo acquistato questi qua in questa variante viola e verde del sempre di catrice o di essence di essence credo no di catrice dico valle e così via questo è tutto quello che riguarda il trucco e sulle labbra ragazzi tra l'altro oggi indosso uno uno dei colori che ho è questo qua di questo è il numero 30 credo sì di maybelline super stay ink crayon qua ne ho una fucilata di colori sono gli unici rossetti che uso perché durano tanto vedete si fissano sono invariante matt non c'è bisogno di fare un contorno labbra con matita le usi facilissimo e poi ho provato anche questi qua colori qui di red touch di debora milano che sono delle tinte matte queste qua io ne ho preso dei colori si sono buonissime sono praticamente identiche come a queste qua di maybelline durano un botto la stessa cosa e come sono buonissime luci da labbra soltanto colorati soltanto questi qua di max factor ne ho un paio di colori mi piacciono un botto è l'unico prodotto e poi chiudo di sempre per le labbra per idratazione che va anche al mare ma non è colorato è soltanto buro cacao ho rinunciato al buro cacao in bullet e meno male che ho trovato un questa variante però ho visto che anche altre case fanno sto genere io ho queste qua di bondi sans lip balm fatti così ne ho preso un sacco queste qua le trovate da dm ma fate in questa maniera perché quelle in bullet tipo come la bello da un esempio io ad esempio avevo pizzi fatti così è difficile si sciolgono in borsa più che altro quando lo vuoi mettere si spacca si rompe l'unica variante è questa qui fatemi sapere nei commenti voi che prodotti utilizzate di estate quando vi truccate che cosa vi piace e noi ci vediamo alla prossima vi mando un bacio e attendo i vostri commenti